presentata sa giunta in carbonia sa sindico noa de carbonia paula massida presentao in manera uffiziali sa squadra sua de governo sa primo cittadina a possisi di ai bincio in suballottaggio a su sindico in essida peppe gasti in moia è pronta a comenzai un ugamino longo e traballoso sa giunta poi moia è composta di una mestura dei consiglieri seligius e tecnicoso Mauro Manca adesso sa se so rinnovo a su bilancio e a sa programmata a istributtoso a su patrimonio e a sinnovo denologico Arianna Vinci sa d'occupai de politica socialisi domo e traballo Carola Mario des istruzioni pubblica des politicas dei giovani e des su sport Paola Argiola sa sa d'occupai de vaina generalisi a Emanella Rubio tocca a sarea de s'occupai dessa cultura Poserrai Giovanni Lucalai nomena un vice sindico ad essi assessori a s'ambienti sa giunta massida ad essi dunca sa vromata de tres ominis e cinque vemi nasa contendi a sa sindico in mezzo Meso su contra sa foco Danti concordavo a giovi a zetti de su mese Argiola sa sattopi un anno con i sindicos de su logo Convocao de Giovanni Luiso Rubio po' arregionai dessa varta de Canader Ed è a resursa se in grado di combattere i foco su chi funti vendi in Genugai assiso l'entrea I foco su chi antidento in cui sorge a differentesi in tre igrezias e Nugoro Antacattao bago pronta sa macchina contra sa su foco dessa regioni Milo po' itta Rubio a presentare un'interpellanza di appretto decrarendi I sarretrasso sinifainas a dei saparecchio su s'obbricanta a si preguntai A su questa cantità di dei mesos a disponimento troppo pagos Po' scapulli il foco su de temporada E aggiungiti, est una bregungia che indide pantalompi in Sardinia I saparecchio su chi funti tra ballendi in Sicilia Poserrai e usa cercare di indipocai uno documento unitario Po' un'aisa giunta regionali a frunivro un meso su chi aggiudinta a Frimai Su pericolo dei focos Recupero il reperto nuragico su su nucleo dei scarabineri Si possa amparo del suo patrimonio culturale Con una buona vaina di spricolo da Torraudes a Svizzera Pruso dei 400 reperto archeologico su de origini nuragica I militari si vuntarrenescioso andrà recuperare i sprendoli dei valori Billendi su web che ha usato i antamostausi In uno scanto situs internet I sparticolari si dessa vaina Usa di spriccauso il suo capitano Paolo Montorsi Comandante del suo nucleo carabinerisi Posto patrimonio culturale del castello In saseo del suo comando provinciale dei scarabinerisi di Nugoro Presenti si vina se i funzionari su dessa sovra Intendenza archeologica di Sardinia Poi noi il suo spricolo non doi ad indagause Però i fainas dei militari si non funti tambeni a cabalasa Gramata a imbarco C'è nabura otto dei suoi mesi argiolasa I decidi a Menjano Insuffizio circondariale marittimo dei santo Antiogo Andrà fai una gramata di imbarco Poi uno marineri con permisso A subessa motovisca denominato Veronica Sarmatori dei suoi unitati di Visca La risulta adesso è salvatore a società di cooperativa Con sei ulegali in santo Antiogo In Bialogu d'Oro 50 Su contratto adesso a tempo sono determinato S'imbarco dei suoi marinieri in Chistioni Dovainti in supporto di Galezzeda In Bialogu d'Oro 50